Oh! E c'è il tuo volo, il volo! Sono accaduto in testa! Se sei un amante del gaming e della musica, ti invito ad ascoltarmi. Come ben saprete ragazzi, con l'arrivo del capitolo 5 su Fortnite hanno introdotto veramente tantissime modalità di gioco super divertenti, tra cui uno in particolar modo, la Fortnite Festival, che peraltro ringrazio ancora lo staff di Epic per avermi inviato questo fantastico regalo con all'interno il braccialettino del festival. Qui abbiamo l'invito a trovare la modalità di gioco e sul retro invece abbiamo una bandana limited edition a tema musicale, davvero super graziosa. Quindi grazie ancora Epic, ma adesso vi vado a spiegare più nel dettaglio in cosa consiste. Il Fortnite Festival ci permette di avere il nostro show, creare la nostra band e suonare le canzoni dei nostri artisti preferiti. Ci sono ben due stage, lo stage principale e lo stage jam, che ci dà l'opportunità di andare a mixare canzoni di ogni artista per creare un qualcosa di più innovativo e creativo. E il tutto ovviamente lo possiamo fare insieme ai nostri amici e anche insieme ai giocatori che stanno giocando proprio in quel momento. Super divertente, creativa, innovativa, ma soprattutto competitiva, perché divertendovi potrete anche scalare le classifiche mondiali e vi assicuro ragazzi che non è per niente facile. Detto ciò ragazzi, adesso però mettetevi alla prova e io vi aspetto per provarla insieme. E' niente, ancora l'hai tutto. Guarda quanto mi ha fatto. E' sponato? E' vero? E' sponato e quella è la vita che mi ha tolto. Vedali, te lo giuro che sei del pompa mitico. Non puoi avere il pompa mitico, non puoi, non puoi, guarda che sei mai. Non posso proprio, cioè neanche il medaglione, proprio niente. Cioè, lo puoi fare, ma se lo prendi... Cioè, il vero Peter si offende. Vai, dobbiamo fare tutte le lutte, dobbiamo fare tutte le lutte. Vai, tutto, tutto, tutto. No, c'è, 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 c'è! C'è, 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 c'è. Uno, due, tre. E' c'è il tuo volo in volo. Mi ha fatto cento, oh my days. Cappy, mi sa che abbiamo fatto entrambi una cosa fighissima nello stesso momento. Ti giuro, ti giuro su quello che vuoi. Io ho fatto il chat in volo con l'impulso. Ah, tipo 20 metri da me. E' dietro alla roccia. Dove? Ah, quella roccia. A me? Cappy, non posso vedere, ti giuro non posso vedere, cappy. 110 a 1. 110 a 1. Sono messo veramente male, sono messo veramente male, ti giuro. Un in haig, un fondamentale in haig. Resisti, ti prego. Dimmela però, dimmela, dimmela. Non ha funzionato? Nice, nice, nice. Vabbè, questi sono cringissimi, stanno giocando fermi. Cioè, crackato la golfista? Eh, dobbiamo fare qualcosa, cioè, non so quando pusharmi. Crackato. 110 vai, pusha ora, pusha ora, basta. Eh, ma... Hox, 60 white. Sto correndo, capito? Che posso. Tutto il giuro, è uno. Oh my life, molto, molto, molto. Alto team. Alto team che si spara, sì. Devo farmi doppio big. Sto facendo double big, eh? Mmhm. Che ho fatto double big. Alto team? Mi buscerò, mi sa. Non riesci a stare... Sono due, ti va? No. Sì, sì, sì. Ho tunnelato qua, vai. Powered. Oh, cazzo. Da me? Sono morto. 30. Ho 16, il dio. Sei. Tieni qua. Box, 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 ti giuro. Prova. È uscito. È il più che io non ho uscito. Guardate, io c'ho... Tieni qua, tieni sta cosa, tieni sta cosa. Grazie. Tutto scarico, cioè. Ho tre mediche, ti ho. Sto facendo. No, cazzo, cento. Cento, cinquanta. Bravissimo. Bravissimo, bravissimo. Aspetta, vieni mazzo. Con lo shotgun che? Marfica, ho finito. Oh! Porca putt... Dimmi come i che ti tieni qua. Ciao, che ho la fratella. Mamma mia, bravissima. Questo mi killa, se io ti ho spammarmi, cioè, letteralmente. Mi sta cenando. Ah, è, sono morto. Sarà qua, sarà qua. Non è vero. Hai cura? Finito proprio tutto. Fini. Devo, 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 devo l'ho dare io. Ho l'ho dato. Ok, vai, hold. Sto a procurarmi. Ah, ha preso sto muro qua, ha preso sto muro qua. Mi spande, mi spande lì qua. Guarda, devo ricaricare, sennò quello lì me lo killavo. 110. Joino, joino, non frega niente. Morto uno, morto uno, morto uno. Che box qui? Aspetta un attimo. Arrivo. Ma qui qua hanno il medaglione di supervi. Give me box. Give me my medaglione, give me my medaglione. 100. Ah, dammi il mio medaglione. Arriviamo. Ok, io sono tornato ai box. Non so se riesco. Qua è il popo mitico se vuoi. Che popo mitico? Eeeh, quello di... Ok. Guarda qua, l'altro team qua. Ma se tipo ci passiamo i medaglioni così, fai l'uomo con la roba? Sì. Tieni. Ok. Ok, tieni tutti. Non so se ce l'hai già full. Mhm. Sono accaduto in testa. Andiamoci. Sì, sì, andiamo, andiamo. Mi guardano da dietro. Sto arrivando io, sto arrivando. Merti. Bellissimo. Ah, non puro un altro medaglione questi. Faccio headshot, ok? Mhm. Ma fai chiedermi di farmi un headshot. Lì dopo lo faccio. Quindi mi devi chiedere se devo... Se faccio un headshot, cioè... Stai per entrare, eh. Siamo vicini. Stai per entrare, stai per entrare. Stai per entrare. Stai un attimo che sta per entrare. 110. 110 al mio. Wax. Io non l'ho reto. Mi hanno fatto... Mi hanno choppato. No, vieni, vieni, vieni. Devi fillarti. Fillarti, fillarti. Sare sopra. Sì, come? Sono morto. Crackato, l'ho crackato. Quello dietro l'italità. Guardi, sei f... Bravissimo. Fenomeno, bravissima Scopato Oddio, pompa, pompa, roba Mini shield Molto bene Guarda Godo, godo Madonna quanto ci sto godendo, te lo giuro Sono un cazzo di fenomeno, porco 200 e più, baby 200 e più, il tempo che fai una mostra io già l'ho pensata Quattro volte di prima Vabbè, DJ Ok Ok Sì Ah Sì 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 Signori Primo game così proprio Nel chilling A casa A casa come se nulla fosse Baby Guardate che cecchinate comunque Si vola Dentro Avevi 5 medaglioni Eh lo so Sono il capotreno